Piove col meteo che rischia di incidere sullo spettacolo in campo, con sfera comunque bellissima, con i tifosi che provano a scaldare il clima. Pierluigi Pardo e Lelio Adani in vostra compagnia per una partita che si pronuncia spettacolare. Torno alla Serie B, campionato protagonista quest'oggi. Immagini che testimoniano di stima di festa che si respira sulle tribune, speriamo possa continuare su questi binari fino alla fine. Le squadre in campo, i tifosi sugli spalti, la cornice di questo splendido stadio, ci sono tutti gli elementi per assistere a uno spettacolo di quelli che non ti fanno rimpiangere i soldi spesi per il biglietto. La regia ci ripropone l'azione del gol. Una conclusione violenta sulla quale il portiere non ha potuto far nulla. Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. Supera una metà cap, avanza la palla al piede della tre quarti avversaria. E' stata smarrita una borsetta di colore marrone contenente effetti personali. Chiunque dovesse trovarla è pregato di consegnarla a Mistura. Cerca l'imbucata. Questa è la palla, è zona d'attacco, attenzione. Gran palla, pericolo. C'è la respinta del portiere, si gioca. L'arbitro non interrompe, attenzione, vantaggio. Si riprenderà dunque con un falo laterale. Gioco fermo e allora ecco il giallo per l'intervento precedente. Non un buon possesso qui. Intervento da cartellino questo, vediamo. Intervento è sanzionato con il cartellino giallo. Ammunizione direi giusta, ci sta. La negazione sopra la traversa. Scambia corto sul compagno. Può nascere qualcosa di buono qui. Perde un brutto pallone. Attenzione! Ribatte qui il tiro. Calcio all'angolo a caccia del gol della sicurezza.